Ricorderete tutti non troppi giorni fa quell'incidente in cui è affondata una barca a vela molto grande purtroppo con delle vittime. Si è parlato sulle cause, cosa può essere successo, perché, per come, chi doveva fare cose eccetera eccetera. Vi dico subito che io personalmente dal punto di vista meteorologico ho la competenza per spiegare che cosa può essere successo non alla barca dal punto di vista meteorologico. Poi, essendo velista, vi do un'indicazione di come una situazione di questo genere può influire su una barca. Non voglio dare spiegazioni, soluzioni, ma vi do un aiuto per cercare di capire. Nei media, nei giornali, nelle televisioni si è parlato molto, si sono dette cose non troppo esatte dal punto di vista meteorologico e dal punto di vista nautico. Quindi lascerei da parte, ma hanno detto che io vi do una chiave di lettura, dopodiché ognuno se vuole. Decide, ma poi non decidiamo niente, cerca di capire com'è successo. Allora, ripartiamo da quello che sicuramente non è successo. Il downburst, correnti discendenti verticali in un temporale molto forte, possono raggiungere velocità intorno ai 100 km all'ora in verticale, che è tantissimo. E l'abbiamo detto, questo ne abbiamo già parlato, è sufficiente, anzi è abbondante anche, per far cadere un aereo, perché una corrente discendente di questa intensità è in grado di abbattere un aereo, anche un aereo di linea o un aereo grande. Però, qui non si trattava di un aereo. Allora, immaginiamo un attimo una barca a vela con un vento piuttosto forte, sbandata, come questa. Ora capite che, di questo ne parleremo fra un attimo, ma la superficie di una vela del genere esposta al vento orizzontale la piega, la sbanda, si dice, in questa maniera. Pensate se a questo punto una corrente, un vento verticale di 100 km all'ora arriva su questa vela. L'effetto è di sdraiare la barca totalmente in orizzontale sull'acqua, con tutte le conseguenze del caso. E parliamo di una raffica discendente di 100 km all'ora. Lo schema della tromba d'aria è questo che avevamo già visto nella zona in giallo, la velocità del vento che ruota in orizzontale, non in verticale, in orizzontale, può raggiungere i 100 km all'ora. Nella parte interna della tromba d'aria, le velocità vengono stimate in 200, 300, forse anche 400 km all'ora. Noi non abbiamo idea di che cosa sia un vento di 400 km all'ora, ma è in grado di abbattere un muro, una casa, solo con la forza dell'aria, non di oggetti proiettati. Allora, a questo punto, stiamo parlando di due situazioni diverse. Vediamo l'immagine successiva, è sempre una cosa che è di tipo nautico. In una barca si distinguono due parti. L'opera viva è la parte immersa dello scafo, quella che sta in acqua, che è quella che fa vivere la barca. Tutto ciò che è fuori, e quindi lo scafo, la tuga, la sovrastruttura, l'albero, il boma, che è quest'asta orizzontale, vedete, ve l'ho segnato in rosso, questa è l'opera morta. L'opera morta è tutto ciò su cui il vento spinge. Qui parliamo di una barca senza le vele, come era la barca che è affondata. La superficie su cui il vento soffia, complessivamente, può essere abbastanza elevata, soprattutto su una barca grossa. Per esempio, questo boma, quest'asta orizzontale, ha dimensioni di 50-60 cm di altezza per 15 metri di lunghezza. Sono decine di metri quadri, esposti al vento, come se fossero una vela, sono verticali, la barca non è sbandata. Ma su questa superficie, la spinta di 300-400 km all'ora, è in grado di sdraiare la barca, sbandarla fino a renderla proprio orizzontale. E a quel punto è la situazione critica, perché se la barca è preparata a questo, tenendo tutto chiuso, forse si salva. Il fatto che ci fossero dei portelloni aperti, che sembra un'imprudenza, ma va tenuto conto che una barca del genere, con un vento di 100 km all'ora, portelloni aperti o no, non va a fondo. Quindi era ben altro che un vento di 100 km all'ora fosse anche verticale, ma se una barca dritta, un vento verticale non fa moltissimo. Quindi quello che ha provocato l'affondamento della barca, sicuramente è stata una tromba d'aria e non un downburst. Perché proprio lì? Allora, vorrei far vedere un'altra immagine che vede delle barche vicine. Il diametro di una tromba d'aria può essere anche di poche decine di metri, che significa che pochi metri, l'abbiamo visto nella precedente puntata, la tempesta vaia, che era una tromba d'aria, alberi in piedi accanto a alberi caduti. Significa che dove l'albero è caduto c'era un vento di 300 km all'ora e tre metri più in là c'era 100 km all'ora e l'albero non è caduto. E' questo quindi che succede? Che se qui questa barca prende 300 km all'ora e qua a 10 metri di distanza, a 20 metri di distanza, prende 100 km all'ora, può benissimo succedere che due barche così vicine, una possa affondare o possa essere danneggiata, se va bene, e l'altra no. Quindi si è parlato della barca vicina che ha portato soccorsi, perché a lei non è successo? Per questo motivo. Quindi diamo il quadro, il meccanismo di come funzionano le cose. Poi ognuno, ripeto, se proprio vuole dare un giudizio, se lo fa da solo. Io vi ho dato soltanto gli strumenti. Alla prossima.